ciao e benvenuto in questo nuovo video oggi tra le mani ho questi due portatarga e insieme a te andremo a vedere in questo video tutte le particolarità il montaggio e il motivo per cui reputo questa piccola spesa fondamentale per ogni endurista fin dall'acquisto della propria moto adesso sigla e iniziamo subito col video eccomi qui ma perché oggi voglio parlarti proprio di questi due portatarga il portatarga non è un componente che aumenta le prestazioni o che ti fa andare più forte eppure secondo me è davvero importantissimo e tra poco capirai perché aspetta prima di proseguire con il video sei già scritto al mio canale se non sei ancora iscritto è semplicissimo basta che fai clic qua sotto nel pulsante rosso a destra hai fatto perfetto ricominciamo ora voglio spiegarti perché ritengo così importante questa piccola spesa alle gare di enduro o nei giri con altri miei amici mi è già capitato più volte di vedere la targa mangiata dalla ruota dietro magari durante un salto contro qualche affondamento la ruota girando la targa si abbassa la mangia e fa dei danni la targa si può rompere si può danneggiare o ancora peggio possiamo perderla perché magari spacchiamo il portatarga e cosa succede in questi casi bisogna rimatricolare oltre a essere una gran perdita di tempo è abbastanza costoso perché ci vogliono 160 euro più o meno escludendo poi lo spostarsi andare in un'agenzia o in motorizzazione eccetera eccetera non ti aspettare chissà che spesa allora parliamo di 23 euro per il modello racing normale e di 39 euro per il modello racing on off quello con lo smontaggio rapido della targa capisci bene che questo non è un upgrade molto costoso rispetto al valore che è una moto da però ti farà risparmiare innanzitutto dal punto di vista di rematricolazioni varie perdite di targhe eccetera eccetera e in secondo luogo ti farò vedere che è molto molto più semplice e veloce togliere e mettere la targa visto che sto facendo due generi diversi di enduro ho scelto proprio per questo motivo due portatarga differenti uno è per il racing e per le gare di enduro che come tutti sappiamo ormai da qualche anno impongono la targa originale installata sulla moto e l'altro portatarga invece è per tutti gli enduristi amatoriali che fanno giri più o meno lunghi durante il weekend che vanno alla scoperta di nuovi orizzonti quindi sono in avventura magari durante giri di più giorni che come me fanno anche dell'enduro estremo quindi si si trovano a fare dei percorsi molto impegnativi talvolta anche quasi trialistici e che come priorità hanno la comodità e il non avere il problema con le forze dell'ordine quindi poliziotti carabinieri e chi più ne ha più ne metta ma prima di montare questi due portatarga voglio prima farti vedere velocemente come funziona il portatarga originale forse proprio come quello che hai tu piccola precisazione per comodità durante i vari monta e smonta della targa userò quattro bulloncini per evitar di dover sprecare inutilmente mille rivetti come vedi qui ho il portatarga originale installato che oltre ad essere in plastica e molto debole ha questo grande difetto se per qualsiasi motivo dobbiamo smontare la targa ad esempio per allenarci in un fetucciato in un piccolo pistino oppure per evitare di danneggiare la targa in un bosco durante un percorso tecnico non possiamo rimuovere solo i bulloni del portatarga ma dobbiamo prima smontare la targa dal portatarga e successivamente smontare il portatarga dal nostro codino il che si traduce in una notevole perdita di tempo provo a svitare e non si svita girerebbe tutto quindi quando ho la targa messa non posso tenere fermo il bullone e quindi non riesco a smontare il portatarga assieme alla targa devo fare questo lavoro con la targa smontata andiamo a vedere per primo il portatarga racing di camoletto oltre ad avere lo stesso peso del portatarga originale ti permette di fissare una sola volta la targa al portatarga e qualora dovessi smontare la targa ti basterà andare ad allentare i due dati del portatarga proprio perché i bulloni sono fissati al portatarga per non girare e per farti risparmiare notevole tempo inoltre avendo questo particolare taglio al laser si va ad aumentare di circa mezzo centimetro l'altezza della targa rispetto all'originale e questo durante una gara nei fine corsa del mono ti consente di evitare in maniera totale la possibilità che la targa venga mangiata dalla ruota posteriore vediamo che è tagliato al laser sia per alleggerirlo sia per questo motivo qua perché rispetto al plasticone che andrebbe a occupare tutto anche nella zona della ruota questo qua in questa zona qua rimane scarico quindi la targa rimane una volta piazzata rimane leggermente più in alto quando la ruota dietro sale per via dell'amortizzatore va a incidere meno a rischia meno di andare qua vicino ma ora voglio parlare della svolta e del portatarga che sto usando maggiormente ossia il portatarga racing on off rapido come vedi in queste immagini è diviso in due parti la prima piastra viene fissata al codino della moto tramite tre bulloncini la seconda invece è una piastra cui va fissata la targa sul retro sono presenti due binari in teflon di alta qualità che scorrendo nella piastrina del codino vanno a far scattare la molla e bloccare la targa in maniera super salda al codino anche questo portatarga rialza parecchio la targa proprio per evitare la possibilità di essere mangiato dalla ruota posteriore la molla a scatto ci assicura una presa ottimale con la targa ma qualora tu non sia abbastanza tranquillo hai la possibilità di serrare la molla al codino con due viti aggiuntive un altro punto a favore grazie ai binari in teflon è la completa assenza di rumori dovuti a vibrazioni o giochi indesiderati questo durante una gara ad esempio ci consente di tenere il nostro livello dei decibel più basso e quindi non aver problemi extra alle prove fonometriche abbiamo queste due guide in teflon che andranno a scorrere sui lati laterali della piastrina inseriamo premiamo leggermente quando andiamo su scatta da solo una volta che è scattato qua o perdiamo tutto il codino o la targa non la perdiamo più e qual è la figata che quando dobbiamo toglierla facciamo questo lavoro qua prendiamo così tolta adesso che la targa è fissata vediamo qua la molla con tutto il portatarga messa tolta una cosa che non ho detto prima è che gli spessorini in teflon oltre che a compensare la curvatura del codino servono anche per tenere la nostra piastra leggermente rialzata questo ci faciliterà l'inserimento della targa e lo scorrimento delle guide in teflon io personalmente mi trovo benissimo con questo modello racing on off quindi con lo sgancio rapido della targa proprio perché dopo aver percorso qualche tratto asfaltato posso raggiungere i sentieri o le mulattiere sganciare la targa in maniera rapida metterla nello zaino proseguire con il mio giro il mio allenamento o quello che è e una volta che ritorno a casa appena incontro asfalto mi fermo tolgo la targa dello zaino in tre secondi la rimetto e arrivo a casa sono tranquillo non ho nessun problema non ho dei pesi extra e è perfetto giungo quindi alla fine di questo video e spero che ti sia piaciuto e ti abbia insegnato qualcosa di nuovo ringrazio infinitamente camoletto racing per il supporto e per avermi fatto conoscere questi due porta targa qua sotto in descrizione ti lascio il link allo shop di camoletto racing per qualsiasi acquisto tu voglia fare se hai qualche domanda curiosità o componente speciale che vorresti conoscerlo scrivilo sempre qua sotto nei commenti e vedrò di aiutarti magari facendo anche un video dedicato il video è finito come sempre gas e alla prossima ciao ciao